Noi siamo partiti da qui e in automatico il proseguo dell'esistenza, poi cos'è che avviene che è avvicinandoci sempre di più all'origine. Il tempo si velocizza, qui il tempo è più veloce di qui e lo spazio temporale è da qui a qui. Ciò significa che pian piano che ci avviciniamo al centro e ci stiamo avvicinando, il tempo che è un'illusione data dall'uomo perché noi lo cronometriamo ma non è cronometrabile il tempo, cronos, si abbrevia lo spazio temporale. Questo a mio avviso è il motivo per cui siamo in crisi. Bisogna uscire e rientrare in un nuovo sistema dove non si ha uno spazio definito.